Sicuramente dispiace non aver passato il turno, abbiamo lavorato molto in questi giorni su questa gara, sapevamo che il Monza era una squadra molto attrezzata, è mancata quella esperienza, quella furbizia di saper gestire la gara e non andare dietro all'evento. Siamo stati bravi a riaprirla più volte, poi in contropiede abbiamo preso dei gol e ovviamente lavoreremo col mister durante la settimana per cercare di migliorarci. Sicuramente la Manna ha fatto parare importante, è un portiere di categoria superiore, sappiamo bene il valore dei nostri attaccanti, ci sta che alcune occasioni non può fare gol ma i meriti sono stati più del portiere questa sera. Sono contento perché al di là del calore che mi hanno riservato, mi sono emozionato, devo entrare in condizioni perché non ho i 90 minuti, non ho fatto tutta la preparazione quindi con calma avrò anche questa settimana a disposizione del campionato per mettermi in forma. Guarda io ne ho fatti tanti, è un modo di ragionare molto particolare, il campionato di Serie B a volte è noioso, è brutto da vedere però devi riuscire a tenere l'equilibrio, devi stare sempre sul pezzo, devi dare continuità ai risultati, non puoi vivere partita per partita. È un campionato così lungo che devi mettere un mattoncino alla volta e poi aprile e maggio devi stare lì per lottare per la promozione.